Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, rieccoci ben ritrovati. Apriamo parlando dello stupro avvenuto a Catania, una ragazzina, una tredicenne violentata dal branco, un gruppo di egiziani. Vediamo da dove sono partite le indagini dei carabinieri. Sono un gruppo e sono di origine egiziana. È stato questo l'input delle indagini avviate dalla procura distrettuale di Catania sulla violenza sessuale nei confronti di una tredicenne catanese nei banni pubblici della Villa Bellini, commessa il 30 gennaio scorso. Nessun aiuto è arrivato dalle telecamere dei giardini comunali perché non ancora attive. Così l'attenzione dei carabinieri si è spostata sui sistemi di videosorveglianza di locali pubblici che puntano anche gli ingressi della villa. I militari, cercando e scavando, hanno appreso la nazionalità dei componenti del branco che sarebbero stati fermati per altri motivi in quella zona. Da lì è partito l'ordine della procura di effettuare uno screening nelle comunità di accoglienza che ha portato alla convocazione di giovani egiziani di quella fascia di età. Di primi due arrivati uno ha parlato e ha fatto il nome di altri due. Dai contatti social su TikTok si è quindi arrivati ad altri collegamenti, fino ad avere sette nomi e altrettanti indagati. Importante per le indagini sono state anche le dichiarazioni della vittima. Sotto shock ma determinata a volere giustizia per la violenza subita. Ha dichiarato con fermezza, ho visto soltanto tre di loro, due mi hanno violentata, l'altro guardava, ma il mio ragazzo li ha visti tutti. Non ha aggiunto altro, avendo in mente i visi confusi per non accusare persone innocenti. Agli investigatori ha dato l'impressione di essere una ragazzina molto più matura dell'età che ha. Anche il fidanzato, 17enne, ha confermato e non ha avuto esitazioni quando è stato a confronto con i potenziali aggressori. Questo c'era, questo non c'era, ha risposto con certezza. Spaccio di sostanze stupefacenti a Siracusa, nello specifico in un esercizio commerciale di Ortigia. Un 36enne è stato arrestato dai carabinieri. Il servizio. I carabinieri della stazione di Siracusa Ortigia hanno tratto in arresto un 36enne del luogo gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, smerciate all'interno di un supermercato da un dipendente che consegnava ai suoi clienti, oltre ai panini imbottiti, anche stupefacente già suddiviso in dosi. A seguito di perquisizione personale e domiciliare, effettuata anche sul luogo di lavoro, un'attività commerciale nell'isola di Ortigia, l'uomo è stato trovato in possesso di circa 17 grammi tra cocaina, hashish e marijuana, sostanze in parte già confezionate in dosi, e 435 euro in banconote di vario taglio, denaro ritenuto provento dell'attività di spaccio. Lo stupefacente è stato sequestrato per i successivi esami di laboratorio. Il 36enne, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari, così come disposto dall'autorità giudiziaria Aretusea. Un arresto anche a Palermo. Si tratta in questo caso di un minorenne trovato in possesso di sostanza stupefacente da spacciare, ma anche di banconote false. Per tutti i dettagli vediamo il servizio. I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno tratto in arresto un minorenne palermitano con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e spendita di banconote false. Nell'ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga, i militari dell'arma hanno colto in flagranza di reato il giovane e presunto pusher e durante le operazioni di ricerca all'interno dell'abitazione, hanno rinvenuto 70 grammi di hashish, nonché 380 euro, di cui 350 in banconote contraffatte. Durante la perquisizione della casa della famiglia del 17enne, sono stati inoltre recuperati altri 3.700 euro in banconote false, per il cui rinvenimento sono stati denunciati in stato di libertà per spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate anche i genitori del ragazzo, una coppia palermitana di 36 e 35 anni. Le banconote verranno inviate al Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria di Roma per i necessari approfondimenti. L'arresto del minore è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni che ha disposto il collocamento in comunità del ragazzo. Nel corso di un'altra attività, nel quartiere Ballarò, i carabinieri del radiomobile hanno denunciato in stato di libertà, per spaccio di sostanze stupefacenti, un trentenne del luogo già noto alle forze dell'ordine. I militari, coadiuvati da unità del nucleo cinofili di Palermo e grazie al fiuto del pastore tedesco Ron, hanno recuperato all'interno di un locale, nella disponibilità dell'indagato, quasi un chilo di marijuana destinata alla vendita al dettaglio. La droga recuperata è stata sequestrata e verrà trasmessa al laboratorio analisi per le sostanze stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per le verifiche del caso. Multe e sequestri sempre a Palermo, in questo caso è il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri nell'ultimo fine settimana. Controlli sulla Movida a Palermo. Carabinieri, polizia, guardia di finanza e agenti della municipale hanno passato al setaccio gli esercizi commerciali nelle vie Ruggero VII, Cavur, Pignatelli-Aragona, Isidoro-Lalumia, Quintino-Sella e nelle piazze Sant'Anna, Sturzo e Nascè. Sono state complessivamente identificate 486 persone, controllati 116 veicoli ed elevate 105 sanzioni per violazioni al codice della strada per un importo di circa 10.000 euro. È stata anche denunciata una persona per guida senza patente. Sono stati multati 8 palermitani che percorrevano le aree pedonali con monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita. Nel corso dei controlli sono stati multati tre locali, un pub e due discoteche. Un pub non aveva l'autorizzazione per diffondere musica dal vivo e l'assenza della scia per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché carenze strutturali. Per l'attività è scattata una multa da 8.000 euro. Nelle due discoteche del litorale occidentale della provincia, invece, si è riscontrata nella prima la presenza di un numero inferiore di addetti alla sicurezza a fronte dei giovani presenti nel locale e la somministrazione di alcolici a un minore di 18 anni. Nella seconda è stata trovata una porta di sicurezza chiusa con una catena. Le sanzioni scatteranno nei prossimi giorni. In un locale in centro è stato anche sequestrato un grosso gazebo abusivo. A Trapani la polizia, invece, è tratto in arresto un giovane pusher. Vediamo i dettagli del nostro servizio. Prosegue senza sosta l'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, volta a smantellare la rete di piccoli spacciatori e al contempo individuare i canali di approvvigionamento. Questa volta gli investigatori della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un giovane trapanese di 21 anni incensurato. I fatti risalgono al 25 gennaio scorso. Il ragazzo è stato sorpreso mentre deteneva all'interno della sua abitazione un grosso quantitativo di hashish pari a 850 grammi, in parte già suddiviso in dosi, pronte per essere immesse nel mercato. Oltre allo stupefacente, nell'abitazione è stato rinvenuto materiale per il confezionamento ed è stata sequestrata la somma di 1000 euro, provento certo, delle cessioni di droga. L'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria competente. Una volta immessa nel mercato, la sostanza stupefacente sequestrata avrebbe consentito un guadagno attorno ai 3000 euro. Sequestri e sanzioni per oltre 6.000 euro a Paternò nella Catanese è un bilancio di alcuni controlli effettuati nel weekend dai carabinieri. Il servizio. Rientrano nel piano di intensificazione dei servizi preventivi disposto dal comando provinciale le attività di controllo svolte nel weekend dai carabinieri della compagnia di Paternò, mirate al contrasto dei reati predatori, soprattutto rapine e furti su strada, in abitazioni e in esercizi commerciali. Nella circostanza, i carabinieri della locale stazione, supportati dai colleghi della CIO del XII Reggimento Sicilia, al fine di incrementare il livello di sicurezza reale e percepita dai paternesi, hanno rivolto particolare attenzione alle zone del centro cittadino di Piazza Santa Barbara, Piazza Indipendenza e Via Vittorio Emanuele. In queste aree, oltre a effettuare verifiche preventive in due locali pubblici, gli equipaggi dell'arma hanno organizzato diversi posti di controllo, puntellando i maggiori assi viari e le aree più affollate, operando perquisizioni personali e veicolari, volte a contrastare l'uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel frangente, i carabinieri hanno segnalato alla Prefettura tre giovani che avevano nella loro disponibilità ciascuno una dose di marijuana nascosta nelle tasche degli indumenti. Lo stupefacente recuperato, del peso complessivo di 5 grammi, è stato sequestrato dai militari, che hanno quindi segnalato amministrativamente i tre ragazzi alla locale prefettura. Infine, i carabinieri si sono concentrati sulla verifica del rispetto del codice della strada, per contrastare quelle condotte di guida indisciplinate che possono creare pericolo per la sicurezza pubblica e, in generale, per tutti gli utenti della strada. I dispositivi di controllo posizionati hanno permesso di fermare una quarantina di veicoli e identificare una sessantina di persone. Sono state accertate e contestate numerose sanzioni amministrative, principalmente ad automobilisti trovati alla guida dei veicoli senza l'assicurazione obbligatoria o senza revisione periodica, per un importo di oltre 6.000 euro. I carabinieri hanno anche sequestrato 5 veicoli, ritirato 6 documenti di guida e di circolazione e hanno decurtato in totale 23 punti dalle patenti di guida. Cambiamo decisamente argomento a Giardini Naxos. Il Comitato Sud Chiama Nord chiede interventi urgenti per quanto riguarda le strade della città di Giardini, ma anche e soprattutto per i lavori sul lungomare. Siamo oggi con l'ex consigliere comunale Simona Fighiera. Un'adesione a Sud Chiama Nord molto recente, ma perché questo passaggio di casacca? La mia è stata una scelta ponderata. Oggi nella piena convinzione che il partito dell'onorevole Cateno De Luca, leader di Sud Chiama Nord, è l'unica realtà politica che possa dare tutte quelle risposte concrete alle innumerevoli istanze che provengono dal nostro territorio. A seguito di diversi incontri avvenuti con la deputazione del partito, abbiamo ufficializzato lunedì scorso il nostro ingresso nel partito, costituendo un comitato territoriale. Ricordo che il comitato è stato costituito da me, dall'ex vicepresidente del Consiglio, Giuseppe Leotta, e dall'amico volontario, Andrea Laspina. Quali sono le attività e le problematiche che volete affrontare anche in vista delle amministrative? Dunque, noi giornalmente siamo a contatto con tutti i membri del comitato per parlare delle varie problematiche, ma non solo con il comitato, ma anche con ex consiglieri comunali, specialmente quelli che eravamo gli indipendenti. C'è da fare tanto sul nostro territorio, ma una delle problematiche più evidenti sicuramente è quella relativa ai lavori di riqualificazione sul lungomare, dove cresce sempre di più la preoccupazione tra i nostri commercianti e imprenditori per l'avvio della stagione estiva. Altra problematica abbastanza importante è quella relativa agli sversamenti a mare. Sappiamo benissimo che Giardini Naxos vive di turismo e sembriamo in uno scenario di guerra sia relativamente ai lavori qui sul lungomare che realmente a quello che si verifica ogni anno in estate, che sono degli sversamenti di liquame. Veramente uno scenario inammissibile per la seconda stazione turistica in Sicilia. Altra problematica abbastanza importante ritengo sia quella del manto stradale. Abbiamo delle buche veramente importanti sia nella via Pancrazio de Pasquale, nella via Naxos interna, nella via Orto Grande, ma anche nella via sul lungomare vicino al comune. Di recente sono stati fatti dei lavori dove hanno portato dei tubi. La ditta ha purtroppo compromesso oggettivamente ancora di più quelli che erano già i problemi esistenti. Io credo che quella del manto stradale sia anche una priorità in quanto transitano diverse persone. I nostri pedoni e le mezze a due ruote sono esposti a dei pericoli. Giornate ricche di emozioni a Catania per la festa di Sant'Agata, ovviamente ancora in corso. Catania riabbraccia Sant'Agata, la sua patrona che per tre giorni attraverserà le vie della città, tra fedeli col sacco bianco, preghiere, offerte della cera e momenti di grande devozione. Sabato sera i tradizionali fuochi della Sera del 3 in Piazza Duomo. Ieri mattina invece l'apertura della cappella seguita dalla Messa dell'Aurora presieduta dall'Arcivescovo di Catania Monsignor Luigi Renna e infine l'uscita dalla cattedrale che ha segnato di fatto l'inizio del giro esterno della città culminato stamane con il rientro in chiesa. Oggi invece il giro interno della città degli Otru che vedrà il fercolo della Santa Patrona muoversi per le vie del centro per poi fare rientro in cattedrale dopo aver attraversato in ultimo, tra le altre, le vie San Giuliano e Crociferi. Qui, davanti la chiesa di San Benedetto avverrà il consueto omaggio floreale delle monache benedettine a Sant'Agata. Numeri importanti invece ad Acireale nella weekend appena trascorso per quanto riguarda il Carnevale. È trascorso ad Acireale un altro weekend, il secondo all'insegna del più bel Carnevale di Sicilia con eventi sportivi, danzanti e musicali per grandi e piccini che hanno fatto da cornice alla consueta sfilata dei carri allegorico grotteschi, veri protagonisti della manifestazione carnascialesca, vere e proprie opere d'arte realizzate dai maestri della carta pesta che incantano durante le loro spettacolari esibizioni ricche di effetti speciali. Quest'anno in concorso nove carri allegorici realizzati dalle associazioni culturali Io Capitano di Ardizzone, Allerta Meteo di Persichino e Messina, Open Tu Meraviglia di Principato, Viaggio Spazio-Temporale, Un Futuro da Riprogrammare di Scalie e Fichera e Coglilattimo di Cavallaro per la categoria A. Invece per la B Inrotta di Collisione di Coco, Ultima Neve di Primavera di Leotta e Raciti, Carpe Diem di MSM e Chissà se stai sognando di Cavallaro Paolo. Anche quest'anno Spazio al concorso dei carri in miniatura con 21 opere in concorso e a quello delle maschere isolate con ben 9 opere in gara. Un grande successo dunque anche in questo weekend con 18.000 ticket acquistati e oltre 100.000 euro di ricavi. E' tutto, possiamo chiudere questo appuntamento con Spazio Notizia. Grazie a tutti.